Sembra incredibile che per una vaccinazione debbano intervenire le forze dell'ordine. Eppure l'escalation di disturbatori Novax presso gli hub vaccinali gestiti dall'azienda ospedale Università di Padova e ULS6 a danno dei sanitari che vi operano è in significativo aumento. Questi giorni stiamo notando anche noi che praticamente si stringe sempre più la cerca delle persone che non vogliono vaccinarsi che però sono obbligati a venirci a visitare e purtroppo le reazioni non sono proprio piacevoli. I fenomeni che prima si registravano molto ma molto scarsi durante l'estate adesso sono quotidiani anche più di uno. Il Comitato per la Sicurezza Pubblica si è riunito in queste ore e ha disposto un'intensificazione della vigilanza proprio presso gli hub del territorio padovano a supporto del personale sanitario operante. I medici già massicciamente impegnati dalla campagna vaccinale sono chiamati sempre più spesso a dover gestire persone che danno in escandescenza, insultano e in alcuni casi diventano violente alla presenza di anziani, famiglie, e minori in attesa di ricevere la copertura vaccinale. Può essere un sistema un deterrente e quindi far ragionare maggiormente le persone, può essere anche un modo perché certa gente non si approccia a noi e eviti il contatto con noi. Da angeli o eroi i medici sono diventati la valvola di sfogo di persone spesso confuse da ideali, informazioni forvianti e distorte. Il dialogo però in molti casi è la soluzione giusta per le incomprensioni. L'azienda ospedaliera padovana grazie alla professionalità dei suoi sanitari mette a disposizione incontri in ospedale per approfondire e fugare ogni dubbio sulle vaccinazioni. Solo il dialogo, far capire che tutto quello che leggono in giro sui vari siti internet o sui vari giornali non proposti non è vero. Noi raccogliamo tutte queste persone, titubanti, chiamiamole così, che non accettano di essere vaccinate qua perché hanno bisogno di approfondimenti maggiori. Tutti sabati mattina facciamo una seduta dedicata a queste persone. Se hanno maggiormente bisogno addirittura gli proponiamo una visita più approfondita con un medico che gli dedica una mezz'oretta, quindi un dialogo teta teta con un medico super specializzato dove possono affrontare, dialogare e fare tutte le domande che ritengono opportuno di fare.